Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Skyway Island 2 Allora, nello scorso episodio, che è andato benissimo, sono contentissimo che vi sia piaciuto l'inizio di questa serie Mi avete detto che, giustamente, sono un po' coglione Sono un po' coglione perché ho detto che non potevo fare il letto Dovendo aspettare che crescesse la lana della pecore e tutte queste cose O ottenere del ferro per fare il gesoglio e tutto Quando in realtà la lana è qui Tutta questa isola è fatta di lana, tra l'altro è pure in tema natalizio Che bello, din 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 Fatta tutta di neve, più o meno Allora, che ne dite se prendo tre pezzetti di neve, giusto giusto tre, non me ne servono chissà quanti Me ne vado di nuovo nella mia isola principale, che è questa E con un po' di legno che spero di avere da parte, sì ok ce l'ho Mi faccio una bella e simpaticissima branda dove dormire Visto che è notte, così almeno riusciamo a gestirci le cose Come si deve, sento dei mob e forse non c'era Ah, c'è il Colcat Devo fare uno spawner di sti cose, signore e signori Solo che non so bene come farlo Forse sarebbe una cosa saggia Creare da me una isola Oppure utilizzare una di queste isole secondarie Come isola principale E qui costruirci lo spawner di Gattarboni Ho visto che vi è piaciuto il nome, sono contento I Gattarboni Comunque, come vedete sto usando la maglietta dei maids Questa è la felpa Trovate le magliette disponibili Perché purtroppo non c'è ancora un rage esorbitante di magliette Nel link in descrizione se volete comprarla Ho visto che tantissime la stanno comprando come regalo di Natale O per loro o per qualche amico Secondo me è la scelta giusta Un altro momento pubblicità Che poi vabbè pubblicità, sono robe nostre Se non facciamo pubblicità noi chi le deve fare Mi ha appena spawnato un Gattarbone Micao, stranissimo come nome davvero Gattarbone, col cat magari è più figo Fatto sta, magari ci conviene davvero dormire Esatto Dormiamo che bellina Dormiamo Siamo dormiti Non si dice mai nella vita ma va bene lo stesso La prossima quest che devo affrontare è quella di creare una rabbit stew Ora la mia domanda è Visto che qui spawnano solamente Carinissimi e simpaticissimi scheletri Io Il mio carissimo e simpaticissimo Coniglio A parte il fatto che qui stavo per cadere malamente E che in effetti questo potrebbe essere un po' pericoloso Ehm dove lo trovo La mia zuppa di coniglio Dove la trovo? Cioè è vero che qui mi spawnano dei conigli Però mi spawnano a caso Cioè non c'è uno spawner Potrebbe essere un attimo un problemino E comunque continuo a prendere Anche se ora che ci penso C'è scritto trova una zuppa Di 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 queste cose qui Di di coniglio Quindi magari C'è una cosa di nascosto ma non è questo il caso Ok C'è una cesta E va bene Però dentro c'è una carota e una patata Perché la carota e la patata? Me lo spieghi? Carota e patata non sono proprio le cose migliori della video Potrei aver fatto una cazzata aspetta Facciamo così Vediamo se c'è qualcosa qui C'è assolutamente niente C'è solo neve Altra lana E ancora altra lana Complimenti complimenti È appena sprecato dei blocchi A parte tutto voglio vedere se la sotto c'è possibilità che ci sia un altro blocco Si secondo me lì c'è una cesta raga Secondo me c'è una cesta anche lì Per forza perché c'è scritto trova C'è scritto non crafta Invece non è il caso Va bene l'importante era provarci Ci ho provato e non c'era niente Allora vediamo questo Abbiamo capito che è uno scheletro Però c'è qualcosa di strano in testa Potrebbe essere tipo lo scheletro del ferro o qualcosa del genere Non so se vi ricordate ma anche nella skygrind e nella skyway island 1 Era molto molto simile il ragionamento Fatto sta che ora ci sono anche le ceste di natale che sono fighissime Mettiamone un'altra tipo dietro No dietro è brutta Mettiamone un'altra tipo qui Ho davvero poco bone meal Ma direi che si può investire tranquillamente in una bella farm di patate Anzi sapete cosa vi dico? Facciamo un attimo espandere la zona qui Beh più che farla espandere la espandiamo Qui è che si può giocare un attimino con il fatto patata garota Io mi concentrerei più sulle patate a dire il vero Ah per gusti personali Ora bisogna anche iniziare a Oh merda Ok questa non l'avevo messa in conto Ehm Ma perchè spawnano sempre qui? Coolcat di merda A modi Uh mi ha dato la roba Ok Carbone per zio Surry Allora non avendo contato che comunque c'è la pecora qui Oh quanti cazzo siete? Uh alto carbone Non mi lamento raga Non mi lamento Comunque Devo spostare la pecora Per forza Devo spostarla Problema Dove la sposto? Il fatto che qui sono tutti i spawner strani Allora non ho tantissimi blocchi Io direi di concentrarci Sul Far Ehm Sul fare lo spawner Prima In quest'isola Perchè non abbiamo la rottura di avere tutte le ceste nostre E tutte queste cose così Ora speriamo che questo albero mi dia magari qualche sapling sarebbe una grande roba Ok Un sapling Due sapling Sapling Ok Vediamo di Metterne Mettere un albero qua in mezzo Perchè comunque vi ricordo che Noi di legno Abbiamo avuto solo quello iniziale Non c'è mai cresciuto un alberello finora Quindi potrebbe essere un attimo problema il legno Tra poco Coolcat Do sta Eccolo qua che non lo sapevo che ora spawnava Uh altro carbone Grazie Mille Tu gattarbone ce l'hai proprio col suicidio Fatelo dire Sei malato Uh eccolo un coniglio Ok se mi da Della carne di coniglio Non me l'ha data Aspetta forse ce l'avevo già Ok Raw rabbit ce l'ho Come si fa la rabbit stew Ok ho appena cercato sulla wiki perchè non avevo mai fatto una zuppa prima Ho bisogno di una patata cotta Una carota Cosa che devo aspettare di avere del bombina per fare Perché altrimenti le perdo del tutto Un fungo rosso Ce l'ho Poi mi serve una ciotola Questa posso farla tranquillamente Anzi me ne darà 4 però A noi ne basterà solamente una C'è anche un gattarbone Dove scappi devo ucciderti Uh buon mial proprio quello che mi serviva Ok patate ne ho in teoria Queste sono patate quindi Carota Mi do sulla carota Prendo quest'altra patata e la cuocio Allora patatina Dammi un pezzo di carbone Ok Cominciamo la patata Poi anche il raw rabbit E dovremmo essere relativamente a posto Ci serve solo la carota poi Che però devo aspettare cresca Perché altrimenti sono cazzi Ecco si spawnasse un altro Gattarbone Sì Mi ha dato il bon mial grande Gattarbone Oh ma Finchia non cresce sta carota Valle Vediamo anche il fungo Questo Questo ha finito ormai Ok direi di dormire Oddio c'è il gattarbone Ti prego non suicidarti Aspetta che io dorma Gattarbone dove sei? Oh eccolo qui Eccolo Sì Bon mial Alleluia Grande gattarbone Piazzamone una E andiamo a fare La nostra bellissima e simpaticissima Rabbit stew Boom Che me l'ha data? Ok La seconda isola è apparsa Ed è subito un'isola del nether Ok Signore e signore abbiamo anche la rabbit stew Questa la conserviamo perché Si può mangiare Buona L'unica cosa è che io non ho tantissimi blocchi Per fare sta cosa Sai cosa mi servirebbe Mi servirebbe un mob spawner Se lì c'è della lava Magari anche dell'altra acqua Sarebbe molto comodo Però sento solo le fiamme dell'inferno Che si agitano in quell'isola Oddio guarda quanti gatti Non suicidatevi Vai dove vai Fermo 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 Boom boom Grande genio Ora Potrei usare i blocchi di carbone Per andare dall'altra parte Però il carbone mi serve Quindi non lo farò Quello che posso fare È investire La lana Magari un po' di legno Perché il legno Posso averne infinito A livello teorico sempre Quindi andiamo con un po' di lana Anche se lana e fuoco barra lava Non è che proprio siano Benissimo assieme Fila bucket of lava Ok Quindi c'è la lava Perfetto Problema Perché scappate sempre di là Stai per farmi perdere Il mio sapling Preparati A morire Tantissimo Ma il sapling mi vuole far perdere Questo struzzo Comunque prendiamo un po' di questa lana Usiamo questa per muoverci Verso la prossima isola Che è l'unico materiale Che posso davvero utilizzare Senza Rimorsi Anche perché la lana cos'altro mi serve A niente Quindi facciamo una cosa di questo tipo Sperando di trovare altro ferro qui Perché altrimenti Non so bene come fare Allora Vediamo di per favore Abbattere un attimo tutto questo fuoco Lasciamolo un po' giusto per il futuro Non si sa mai Questa troviamo delle fire charge Mossy cobblestone Dell'armatura Beh l'armatura interessante Posso già indossarla Poi Cosa c'è qui? C'è uno spawner Di Zombie ferro Si questo è per forza zombie ferro Si Teleport to nether No grazie Cioè se c'è il teletrasporto per tornare indietro è volentieri Però non mi sembra Cioè non penso Questa è la scala per tornare su? Qua c'è della sabbia addirittura Per la sabbia sono sicuro che mi servirà in futuro Quindi prendi la sabbia Acqua Acqua Altra acqua Ok Ok signori e signori C'è dell'acqua Come speravo Devo solo ottenere del ferro Ora Quindi che dici se faccio una cosa di questo tipo E blocco l'acqua per ora E cerco di ottenere del ferro in qualche modo Non si sa bene come Molto probabilmente Quegli scheletri lì sono gli scheletri della cobblestone A questo punto Potrebbe essere cobblestone quello che danno loro Vedi è un blocco molto così Si potrebbe essere cobblestone Invece quegli zombie la Danno il ferro Che è ciò che serve a noi La mia domanda è Come faccio a ottenere queste cose? Siccome devo aspettare la notte Potrebbe essere Potrebbe essere Sto gatto che cade ogni volta Madonna che rottura di coglioni Un bel coniglietto che muore E che mi fa piacere Grazie Usiamo qua un po' di roba intanto Questa me la tengo Ora è notte Sponeranno le cose? A me interessa molto che spawnino Soprattutto Gli amici Del ferro Sai com'è? E' la cosa principale che mi serve al momento Amico del ferro Ti va di spawnare per favore? Sai c'è anche quella bella testa di Cagno bastardo Che io chiamo Affettuosamente Zombie Andiamo un po' di spazio qui Al tizio per spawnare Dai Che sennò poi Si sente Oppresso Sono cose sue poi Come se ho provassi ad andare nel nether Ma io non ci provo Ok siamo nel nether Sta laggando Sta Posso Sta laggando tantissimo Ok back to the island Per un attimo mi sono spaventato E ho detto minchia non si può più far niente Comunque Qua c'è un buco Qui c'è una cosa con l'ossidiana e non capisco bene cosa Qui c'è lava Da qui posso prendere lava? Non lo so Da qui non so neanche se posso andare oltre in realtà Qua c'è uno spawner di blades Beh interessante Solo che non l'ho ben capito come funziona il tutto Per ora concentriamoci sull'uccidere i gatterboni Eeeh I zombie del ferro che non si Ahhhh Non spawnano Ragazzi Ero in peaceful Non l'ho fatto apposta Non sapevo Infatti mi è arrivata un attimo così l'impulso di dire Di chiedermi Ma Non è che Sta in peaceful E in effetti stavo in peaceful Quindi anche quelli la della cobblestone funziona No in teoria Vabbè intanto mi ha spawnato un ragno Ok Ok Non so perché era in peaceful sinceramente No raga no 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 Tutto ma non O merda Non fatemi uccidere il mio stesso pecorume Pecorume, greggio stavo per dire ma pecorume va bene lo stesso Ok, ora, signor scheletro è caduto di giù, probabilmente sì, perfetto, molto bene Non riuscirò mai a farmare niente di tutto ciò signore e signori finché non riesco a costruire degli spawn Il problema è che se non ho la cobblestone degli scheletri della cobblestone non riuscirò mai a fare la cobblestone per fare le cose Ciao a tutti, raga è finita, la serie è finita, dammi sta cesta poi Ah, eccolo, l'Iron Man, beh, figo, oddio Ok, mi ha dato il ferro, mi ha dato anche dell'armatura Iron Man Leggings, Armored Pieces, Shattered Grande sì, grande genio, ma utilizziamoci una zuppa di coniglio Se riesco ad ottenere tre pezzi di ferro è il top Ma proprio top, top, top e io devo mettere assolutamente delle torce sulla mia isola, almeno sulla principale Per il semplice motivo che ho paura che qui possa spawnare qualcuno di cattivo Quindi investiamo un po' del legno che ho, che non è moltissimo, visto che non crescono gli alberi Per fare delle torce, ok Quando la prima cesta è piena si va alla seconda cesta Mettiamo qualcosa qui, mettiamo una torcia qui Manca una torcia dove la posso mettere La posso mettere, no, la no Diciamo di metterla qui Ora, una tecnica molto molto figa Per evitare che la gente mi distrugga tutto È quella di costruire delle porte Il problema è che non ho abbastanza legno Non appena i gattarboni qua si svegliano Mi fanno uccidere in santa pace Magari riuscirò con del bomb meal a farmi crescere un albero Che potrò poi utilizzare per farmi le porte E prima è che qua non spawna sto cazzo di cagnone Stiamo aspettando Eccolo, sta per arrivare Sta per arrivare, eccolo qui Buma L'armatura del cavallo Che è un Ray Weapon Cosa fa sta cosa? Penso che non funzioni Grazie al cazzo Va bene ragazzi Per questo video è tutto Mi ringrazio tantissimo per la visione Tra questo e il prossimo episodio Cercherò di fare del progresso Magari iniziare a costruire qualche Mob spawner Sarà molto molto complicato Soprattutto perché non mi spawnano I tizi della cobblestone E soprattutto per il fatto che non so Quanti pezzi di cobblestone mi dia Spero almeno due o tre per scheletro Lo spero davvero Allora aspettiamo un attimo Aspettiamo che spawna e vediamo Cosa mi può dare Allora c'è anche una Una zuppa di funghi in mano Ti prego spawna qua dentro Nooo Ha spawna fuori E niente ragazzi Sarà per la prossima volta Io vi ringrazio Adesso per il video Vi ricordo lasciate un mi piace Se volete iscrivetevi al canale Se volete Se volete su tutti In Instagram e Facebook E ovunque voi vogliate Vi ricordo che in descrizione Trovate il link per le magliette E niente Grazie